Ormai non c'è più nulla da fare. Hanno preso il via questa mattina le operazioni di abbattimento del pino secolare di via Vittorio Veneto a Barletta. L'ultimo disperato tentativo di sensibilizzare la cittadinanza era arrivato nel pomeriggio di lunedì, collega ambiente che aveva annunciato l'ormai imminente demolizione dell'albero. Anche in questo caso, come in seguito alle precedenti mobilitazioni e da varie perizie avverse a quelle del Tribunale, non c'è stata alcuna marcia indietro. Si è arrivati all'epilogo più amaro perché aveva manifestato la propria vicinanza a Ziopino, come era chiamato affettuosamente dalla cittadinanza barlettana, abituata a vederlo svettare su quella strada di raccordo tra la stazione, lo stadio Puttilli, il centro e la periferia della città. La vicenda ha provocato molte reazioni di sdegno dell'opinione pubblica ed è stata discussa anche in Consiglio Comunale martedì pomeriggio. Nel corso della seduta le opposizioni hanno puntato il dito contro l'amministrazione rea di non aver messo in campo tutti i mezzi necessari per evitare l'abbattimento. È una pagina triste oggi, una pagina triste perché come è stato da me sostenuto ieri il Comune poteva fare di più, poteva fare di più nella primissima fase dove purtroppo non si è costituito per varie motivazioni, per superficialità, perché è sfuggita la cosa, ma a quel momento è stato il momento che poi è determinato quello che è successo adesso, ovvero l'abbattimento, perché il Comune avrebbe potuto costituirsi indicando un suo tecnico, un suo consulente, che avrebbe potuto dibattere e far valutare al giudice che, come ho detto di dire, il peritus peritorum, quale delle due perizze, delle due consulenze fosse più idonea al caso concreto. Dal canto suo il sindaco Cosimo Cannito ha chiarito che l'amministrazione ha invece profuso tutti gli sforzi necessari per tentare di salvare l'albero, per il quale è remersa anche l'ipotesi spostamento, poi naufragata tra i dubbi sul possibile attecchimento nella nuova collocazione. Il pino va giù, quel che resta è l'amarezza di una città intera che perde un simbolo pronto a vegliarla da ormai 110 anni.